la cittadina dietretà inarcata a mezzaluna con le bianche scogliere i ciottoli bianchi e il mare azzurro riposava sotto il sole in una splendida giornata di luglio alle due estremità della mezzaluna le due porte la piccola a destra la grande a sinistra protendevano nell'acqua tranquilla l'una al suo piede di nana l'altra la sua gamba di colosso e la guglia alta quasi quanto la scogliera larga alla base e sottila in cima puntava verso il cielo la sua testa a guzza sulla spiaggia lungo la riva una folla di gente era seduta a guardare i bagnanti sulla terrazza del casinò un'altra folla seduta o in piedi sfoggiava sotto il cielo luminoso un giardino di abbigliamenti tra cui spiccavano gli ombrelloni rossi o blu ricamati a grandi fiori di seta sulla passeggiata in fondo alla terrazza altre persone ancora le più calme le più tranquille camminavano a passi lenti lontane dalla calca elegante un giovane famoso pittore jean camminava con aria mesta accanto a una carrozzina di malato sulla quale era adagiata una giovane donna sua moglie un domestico spingeva pian piano quella specie di poltrona a rotelle e l'inferma osservava con tristezza la gioia del cielo la gioia della luce la gioia degli altri non parlavano non si guardavano fermiamoci un po disse la donna si fermarono e il pittore si sedette su un seggiolino che il domestico gli offrì la gente che passava vicino alla coppia immobile e muta li guardava con compatimento correva intorno ad essi tutta una leggenda di dedizione a quanto si diceva lui aveva sposato la donna nonostante la sua infermità commosso dall'amore di lei poco lontano due giovani chiacchieravano seduti su un argano con lo sguardo sperduto verso l'orizzonte no non è vero ti dico che conosco benissimo jean summer ma allora perché la sposata era già inferma all'epoca del matrimonio non è vero certo la sposata perché è stupido ma 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 caro mio non c'è ma si è stupidi perché si è stupidi e poi tu sai bene che i pittori hanno la specialità dei matrimoni ridicoli sposano quasi tutti modelle vecchi amanti insomma donne malandate da ogni punto di vista e perché chissà la furia di stare con quella razza di gallinazze che sono le modelle dovrebbero disgustarsi per sempre di quel tipo di femmine niente affatto dopo averle fatte posare le sposano leggi dunque quel piccolo libro così crudele e così bello di alfonsine duadet le donne degli artisti per quella coppia là l'incidente è accaduto in modo particolare e terribile la donna ha recitato una commedia o meglio una tragedia spaventosa ha rischiato il tutto per tutto insomma era sincera voleva bene a jeanne chi lo potrà mai sapere chi potrà mai stabilire in modo preciso quanto c'è di vero e quanto di falso nelle azioni delle donne sono sempre sincera in una continua mobilità di impressioni sono impulsive criminali devote ammirevoli ignobili per ubbidire inafferrabili emozioni mentono di continuo senza volere senza sapere senza capire e con tutto ciò malgrado tutto ciò hanno un'assoluta sincerità di sensazioni e di sentimenti che testimoniano con decisioni violente inattese incomprensibili pazzesche che sviano i nostri ragionamenti le nostre abitudini di riflessione e tutti i nostri calcoli egoistici l'imprevisto e la rapidità delle loro decisioni fanno sì che esse restino per noi indecifrabili enigmi sempre ci chiediamo sono sincere sono false amico mio sono sincere e nello stesso tempo false perché è nella loro natura unire i due estremi e non essere né l'uno né l'altro considera i mezzi che usano le più oneste per ottenere da noi quel che vogliono sono mezzi complicati e semplici tanto complicati che non li intuiamo mai prima tanto semplici che dopo esserne stati vittime non possiamo fare a meno di stupirci e di dire come mi ha giocato così stupidamente riescono sempre caro mio soprattutto quando si tratta di farsi sposare ma ecco la storia di sommer quella donnina è una modella naturalmente posava nel suo studio era leggiadra elegante soprattutto e aveva a quanto pare un vitino da fata sommer se ne innamorò come ci innamoriamo di tutte le donne attraenti che frequentiamo assiduamente gli parve di amarla con tutta l'anima questo è un singolare fenomeno non appena desideriamo una donna crediamo sinceramente di non poter fare a meno di lei per tutto il resto della vita sappiamo benissimo che la cosa ci è già capitata che la sazietà ha sempre seguito il possesso che per poter trascorrere l'esistenza accanto a un altro essere non basta un brutale appetito fisico ben presto spento ma occorre un'armonia di anima di natura e di umore bisogna saper distinguere nel fascino che subiamo se emana dalla forma corporea da una certa ebbrezza sensuale o da un profondo incanto dello spirito insomma sommer si convinse d'amarla le fece infinite promesse di fedeltà e si misi a vivere con lei era veramente lezzadra dotata di quella superficialità elegante che si trova così spesso nelle giovani parigine si inguettava chiacchierava diceva un mucchio di sciocchezze che sembravano spiritose per il modo strano con cui erano snocciolate aveva continuamente dei gesti graziosi adatti a sedurre l'occhio di un pittore quando alzava le braccia, quando si chinava, quando saliva in carrozza e quando tendeva una mano a qualcuno i suoi movimenti erano perfettamente misurati e appropriati trascorsero tre mesi senza che Jean si accorgesse che in fondo assomigliava a tutte le modelle per la stagione estiva affittarono una casetta ad Andrezzi ero presente una sera quando i primi dubbi sorsero nell'animo del mio amico era una notte radiosa e decidemmo di fare una passeggiata in riva al fiume la luna versava una pioggia di luce nell'acqua piena di brividi sminuzzava i suoi riflessi gialli nei vortici, nella corrente, su tutto l'ampio fiume lento e fuggitivo camminavamo lungo la riva un po' eccitati dalla vaga esaltazione che queste notti di sogno suscitano in noi avremmo voluto compiere gesta sovrumane amare esseri sconosciuti, deliziosamente poetici sentivamo fremere nel nostro intimo estesi desideri, strane aspirazioni e tacevamo invasi dalla serena e viva freschezza lunare che sembra attraversare il corpo, penetrarlo, irrorarlo spirito, profumarlo e impregnarlo di felicità d'improvviso Josephine, questo è il suo nome, diede un grido «hai visto che salto ha fatto quel grosso pesce laggiù?» lui rispose senza guardare, senza sapere «sì, cara» lei si irritò «no, non l'hai visto» «perché è rivoltato?» lui sorrise «è vero, si sta così bene che non penso a nulla» lei tacque, ma dopo un momento fu ripresa dalla voglia di parlare e chiese «vai a Parigi domani?» lui disse «non lo so» lei cominciò a irritarsi «se ti pare divertente questa passeggiata silenziosa quando la gente non è stupida, parla» lui non le rispose allora lei, ben sapendo col suo perverso istinto di donna che l'avrebbe esasperato cominciò a canterellare quell'irritante motivo che da due anni ci tormenta il cervello e le orecchie guardavo nell'aria lui murmurò «per piacere, stai zitta» furiosa lei replicò «perché devo stare zitta?» lui rispose «ci sciupi il paesaggio» scoppiò la scenata l'odiosa, stupida scenata con gli inaspettati rimproveri le recriminazioni inopportune e alla fine le lacrime non mancò nulla torniamo indietro lui l'aveva lasciata stare senza replicare senza dubbio intorpidito da quella serata divina e avvilito da quella tempesta di stupidità tre mesi dopo si dibatteva disperatamente fra quei legami invincibili e invisibili con cui simili abitudini imprigionano la nostra vita lei lo teneva lo aveva dominato e lo martoriava litigavano da mattino a sera ingiuriandosi e picchiandosi alla fine lui volle farla finita rompere a ogni costo vendette tutti i quadri si indebitò con gli amici mise insieme ventimila franchi era ancora poco noto e una mattina li lasciò sul caminetto con una lettera d'addio venne a rifugiarsi in casa mia verso le tre del pomeriggio suonarono andai ad aprire una donna mi saltò addosso mi diede uno spintone ed entrò nel mio studio era lei jean si era alzato in piedi vedendola comparire lei gli gettò ai piedi la busta col denaro con un gesto veramente nobile e con una voce secca ecco il vostro denaro non lo voglio era pallidissima tremava certamente pronta a qualunque pazzia quanto a lui lo vedevo impallidire impallidire di collera e di esasperazione forse pronto a qualunque violenza chiese che cosa volete lei rispose non voglio essere trattata come una puttana siete stato voi a implorarmi mi avete presa non vi avevo chiesto niente io ora tenetemi jean batte il piede per terra no è troppo se credi di io l'avevo preso per un braccio sta zitto lascia fare a me andai verso di là e piano piano con dolcezza cercai di convincerla sfoderando tutti gli argomenti che si adoperano in simili circostanze lei mi stava ad ascoltare immobile con lo sguardo fisso ostinata e silenziosa alla fine non sapendo più cosa dire e vedendo che la scena stava per finir male ricorsi ad un ultimo argomento cara dissi lui ti vuol sempre bene ma la sua famiglia lo vuol far sposare e tu capisci lei sussultò ah ora capisco e rivolgendosi a lui stai stai per sposarti sì rispose jean secco secco la ragazza fece un passo avanti se tu ti sposi stammi bene a sentire io mi ammazzo jean scrollò le spalle e ammazzati lei ripetì due o tre volte con la gola stretta da un'angoscia spaventosa come hai detto come hai detto ripetilo lui confermò ammazzati pure se ti fa piacere spaventosamente pallida lei disse non dovresti provocarmi bada potrei buttarmi dalla finestra jean si mise a ridere si avviò la finestra l'aprì e inchinandosi come chi fa cerimonie per non passare per primo questa è la strada dopo di te lei lo guardò un attimo con gli occhi fissi terribili folli poi prese lo slancio come per saltare una siepe nei campi passò davanti a me davanti a lui scavalcò il davanzale e scomparve non dimenticherò mai l'effetto che mi fece quella finestra aperta dopo averla vista attraversare da quel corpo che cadeva mi parve in un attimo grande come il cielo e vuota come lo spazio istintivamente indietreggiai senza usare affacciarmi come se dovessi cadere anch'io jean sgomento non faceva un movimento raccolsero la ragazza con le gambe rotte non avrebbe più camminato il suo amante pieno di rimorsi e forse anche di riconoscenza la prese e la sposò ecco la storia vecchio mio scendeva la sera la giovane donna aveva freddo volle andar via il domestico incominciò a spingere verso il paese la carrozzina dell'invalida il pittore camminava accanto alla moglie in un'ora non s'erano scambiati nemmeno una parola grazie Grazie a tutti